... Presentiamo un altro weekend di grandi eventi nella nostra città per consolidare il ruolo del turismo e quindi anche delle presenze a Salerno. Presentiamo con grande soddisfazione la tredicesima edizione del concerto pianistico napolitano che teniamo nella nostra città e che è intitolato La nostra città. Con la grande soddisfazione di aver appreso che oltre 100 pianisti importanti di fama nazionale e internazionale saranno a Salerno da tutte le parti del mondo, Cina, Russia, Nord Corea. Questo ovviamente consente di consolidare quel ruolo di Salerno come città dei grandi eventi e come città della musica, come città della cultura e soprattutto come città del turismo. La tredicesima edizione del concorso pianistico internazionale Vieti su mare, costa Puffitana e la undicesima edizione del premio di istituzione pianistica Antonio Napolitano, città di Salerno. Abbiamo superato tutte le aspettative, abbiamo più di 100 iscritti della prima volta dopo 13 anni. Provengono da tutte le parti del mondo, soprattutto dalla Corea, dal Giappone e dalla Russia, ma devo dire la verità anche molti italiani, da Milano, da Pologna, da Imola. Quindi abbiamo Salerno e Vieti che diventano proprio il centro del pianismo internazionale. È stata premiata la continuità, non abbiamo mai salvato l'opzione, la serietà e la qualità delle commissioni. Le commissioni vengono alternate, non è un'unica commissione, ci sono addirittura tre commissioni e ogni anno le cambiamo, quindi c'è un massimo rigore. Puntiamo tutto sulla cultura, investiamo sulla cultura, investiamo sui giovani, perché diamo un'opportunità appunto a questi giovanissimi, che vengono premiati dai 6 ai 30 anni. Al premio di istituzione pianistica partecipano addirittura dei pianisti in carriera, quindi pianisti che ormai già svolgono questa attività in tutte le parti del mondo.